Un ammasso di sterpaglie accatastate all'angolo della strada. Uno stato di incuria che sarebbe poco edificante in qualunque luogo di Pesaro, ma che all'intersezione fra via Michelinitocci e la traversa di Monte Ardizio diventa anche una degradante amnesia sulla memoria storica delle origini romane di Pesaro. Là, in quella salita del quartiere di Monte Granaro, sorge infatti la struttura di un deposito di quello che fu snodo cruciale dell'acquedotto romano della città. Un reperto storico integro e documentato che oggi è avvolto dalla ruggine, dagli arbusti e dai rifiuti, ma che resiste nella memoria di chi l'ha vissuto in prima persona. Ricordo che da ragazzino si veniva qui in questa zona per fare usare i nostri carriolini di una volta, data la strada in discesa, e tutte le volte venivamo a bere copiosamente in questa fonte perpetua di acqua dell'acquedotto romano, acqua buonissima e freschissima per quella volta. Dopo decenni ovviamente l'acquedotto è stato chiuso, che però, vista considerata la validità di quest'opera romana, mi sono molto esterefatto a vederlo in queste condizioni. Io non dico che chissà cosa fare, però almeno dargli una pulita, una targa dove sta a indicare l'uso che se ne faceva. Da questo possetto veniva attinta l'acqua per la fontana di Piazza del Popolo, che fin dopo la guerra, quando i tedeschi hanno distrutto quella fontana, tutti i cittadini andavano a tingere l'acqua in quel luogo della piazza. Quindi aveva una rilevanza, credo.